Diciamo che ad aprile non sono riuscita ad esprimere quello che avevo perché li avevo fatto 67 ma non era nelle mie corde, lì c'era questione proprio di tensione psicologica. E il muro ti ha sbloccato? Ieri, in semifinale? Sì, no, diciamo già anche la mattina, soprattutto magari diciamo il 50 dorso, no, la semi che ho fatto nel record italiano e lì diciamo che mi sono sbloccata di più, cioè proprio quello è stato un primo colpo che mi sono data a me stessa, proprio inaspettato assolutamente e lì allora ho detto mi sono un po' tranquillizzata per il centro, ecco, un po' più fiduciosa di me stessa. Il vostro rapporto però è molto buono, no? Sì, 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 non so cosa dire, comunque no, sì è buono, in allenamento, cioè diciamo che ci alleniamo adesso un po' separate perché io e Simone e Aglaia facciamo gare di velocità invece lei sta più complizza sul 100-200, si allena più. Però comunque ci troviamo tutti bene, mi trovo benissimo con i ragazzi e sono contenta, sono contenta proprio questa medaglia. Bravissima.